Noi stiamo combattendo per i tamponi gratuiti. Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori del pubblico e privato. Serve per aprire? Allora però non può complicare e rovinare la vita a milioni di italiani ha detto Matteo Salvini a diritto e rovescio. Noi stiamo combattendo per i tamponi gratuiti, minori, disabili, anziani, se hai un certo reddito è lo Stato che deve provvedere. Io ringrazio i 40 milioni di italiani che hanno scelto di vaccinarsi, se altri per necessità, dubbi, problemi, scelta percorrono un'altra strada non li possiamo licenziare, frustare, chiudere in cantina. Il tampone è la maniera più sicura per individuare i positivi e focolai, ha spiegato il leader della Lega. In Europa ci sono 126 centrali nucleari, dice Salvini. Perché non pensare a un ritorno al nucleare che non è più quello di Cernobile e dei disastri ma sicuro, pulito, a inquinamento zero. Mi pare stupido far pagare agli italiani più di tutti per dei no ideologici, se la politica impone il green pass ai lavoratori, e addirittura a chi fa volontariato sottolinea leader della Lega è ovvio che i politici devono essere i primi a rispettare queste regole, a partire dal Parlamento.